In questa presentazione vedremo come il programma Geocat Altimetria permetta di elaborare delle viste tridimensionali in grado di dare al committente o ad altre persone non esperte in materia una visione più realistica dei terreni rilevati. Si parte come sempre da un rilievo inserito nel programma Geocat e di questo rilievo si produce il calcolo reale come abbiamo visto anche nelle presentazioni precedenti. Calcolo reale produce ovviamente le coordinate plano altimetriche del rilievo e qui vediamo che rimanendo posizionati sulla tabella del calcolo reale si attivano dei bottoni per le viste tridimensionali. Le prime due di queste viste tridimensionali sono dei disegni che il programma genera automaticamente nel CAD abbinato quindi attiviamo questo primo bottone vedete che il programma mi chiede ovviamente la posizione della scala planimetrica altimetrica e il punto di osservazione per creare la vista prospettica. Una volta forniti questi dati viene lanciato il CAD abbinato al programma in questo caso il nostro BriceCAD che è un clone di AutoCAD e quindi un CAD AutoCAD compatibile e qui vedete che all'interno del CAD viene creata questa vista prospettica. In questo caso però si tratta di una vista prefissata per cui diciamo vedo l'andamento del terreno in visione tridimensionale vedo queste verticali sui punti ma non ho la possibilità di modificare questa visuale viceversa se chiudiamo questo disegno e attiviamo questa seconda vista questa è la classica griglia 3 di faccia viene chiamata in terminologia AutoCAD in questo caso viene prodotta una vista tridimensionale che inizialmente ha una visione in pianta quindi il mio grigliato in questo caso è visto dall'alto in pianta però poi sappiamo che possiamo andare a modificare la visualizzazione mediante le icone del CAD oppure possiamo addirittura diciamo intervenire manualmente per creare la vista che più ci interessa il CAD infatti prevede questo tipo di strumenti che permettono di cambiare la posizione sia in piano che in altimetria e quindi in questo caso riesco poi a selezionare la vista che più desidero quindi in questo modo riesco poi a posizionare la vista tridimensionale nella forma desiderata un'altra vista tridimensionale che produce il programma geocaltimetria è realizzata mediante un vero e proprio visualizzatore di immagini fotorealistiche che si attiva con questo bottone cliccando questo bottone mi viene chiesta appunto la posizione della luce solare per creare l'effetto ombreggiature e forniti questi dati vedete che viene creata questa vista fotorealistica su una finestra a parte questa è una vista che ovviamente anche in questo caso posso andare a modificare a ruotare secondo il criterio desiderato e quindi posso diciamo fornire al committente una visione più realistica del terreno che ho rilevato